E' una giornata importante quella di oggi perché si dà il via a due progetti che mettono in risalto quella che è l'attività che viene svolta sui terreni confiscati. E' un progetto questo qui che dà anche la dimostrazione di quante cose si possono fare con un po' di inventiva e di passione per riutilizzare i beni confiscati che altrimenti rimarrebbero abbandonati. E quindi abbiamo pensato di fare questa pista per Montanbay qui a Isola di Caporizzuto e un parco a Cirò. Addirittura a Cirò i terreni sono su dune marine quindi lì non si potevano proprio coltivare. Però è stata l'occasione per creare un luogo dove valorizzare anche gli aspetti naturalistici del territorio. Entrambi i progetti hanno al centro l'ambiente. Sì, beh, insomma hanno al centro la possibilità di far toccare con mano i ragazzi insomma le bellezze naturalistiche della Calabria e contemporaneamente anche dare un aspetto così positivo di quello che si può fare qui in Calabria che non ci sono solo cose brutte ma si fanno anche cose belle. E' un progetto che vuole insomma trattare temi nuovi in qualche modo, quindi quello dell'attività sportiva, l'attività ludica e quindi una serie di iniziative che partiranno con le scuole ma anche semplicemente con gli appassionati del turismo, del ciclo turismo con l'obiettivo di far vivere insomma i beni confiscati anche attraverso questo tipo di attività. Subito dopo ci sarà questa inaugurazione di un parco dedicato invece alla macchia mediterranea in particolare alla Ginestra Bianca, anche lì quindi il tema ambientale, l'educazione insomma quelle che sono poi le ricchezze del nostro territorio affinché i ragazzi imparino ad apprezzarle, a riconoscerle e poi a promuoverle. In questo progetto Terra Ioni che ha coinvolto anche ciclofficina. Sì, l'idea era proprio questa, cioè realizzare una pista di mountain bike sui terreni confiscati. Poi grazie al finanziamento di Fondazione con il Sud abbiamo acquistato 20 mountain bike di medio e alto livello relativi caschetti e chiavi per creare una piccola ciclofficina quindi per mettere a posto le biciclette e poi speriamo che venga tanta gente, soprattutto ragazzi delle scuole. Qui ci sono tutti i presupposti per utilizzare la bicicletta. Noi abbiamo capito che questo può essere un terreno fertile e che può portare sviluppo alla nostra terra, semplicemente questo.